per eseguire questo esercizio posizionati in piedi con le braccia in fuori come vedi nel video e solleva una gamba da terra cerca di mantenere quindi questa posizione per il periodo di tempo prestabilito mantenendo gli occhi aperti se vedi che non riesce a mantenere l'equilibrio invece di saltellare come vedi nel video appoggia l'altra gamba a terra con la punta del piede e rimettiti con calma nella posizione di partenza